Prosegue il cartellone di Gubbio Scienza, la manifestazione dedicata al tema delle microenergie di scena a Gubbio fino a domenica prossima e mentre proseguono in questi giorni i laboratori per i più piccoli e gli ex-bit nelle piazze del centro storico non mancano anche i momenti di confronto approfondimento come quello di ieri sera in piazza Oderisi tra i più attesi. Era di scena infatti il caffè scientifico tra il sottosegretario degli interni Gian Piero Bocci e l'amministratore delegato di Colacem nonché presidente onorario della fondazione Carispe Perugia Carlo Colaiacovo. Al centro il tema delle città intelligenti moderato dal giornalista del messaggero Italo Carmignani. Quando si parla di smart si parla di intelligenza, di creatività, di capacità di guardare avanti, della forza di scommettere. Non c'è futuro se non c'è scienza e non c'è futuro se non si ha la capacità di innovare. Questo comporta alcune scelte di fondo. Innanzitutto non si può stare fermi. Chi attende, chi aspetta. Il cambiamento sarà sempre qualcuno che subirà le sorti del cambiamento. Il cambiamento va anticipato, va guidato, va indirizzato. E questa è la differenza tra un amministratore, tra un imprenditore intelligente e un imprenditore attendista che però, come dire, perderà occasioni straordinarie. E poi c'è un'altra scommessa che è quella dell'innovazione, del cambiamento, della capacità di abbracciare il futuro. E qui, come dire, bisogna avere il coraggio delle scelte. Oggi noto un attendismo pericolosissimo, quasi un adagiarsi al quotidiano. Non si costruisce il futuro adagiandosi al quotidiano. Il futuro si costruisce creando un orizzonte, restituendo una speranza e stabilire cosa si farà nei prossimi 25 anni, piuttosto che decidere cosa fare nelle prossime 24 ore. E questa è la differenza fra l'intelligenza e chi in qualche modo sta lì nel tentativo di conservare qualcosa. Ogni città ha bisogno di un suo personale progetto. Ognuna ha le sue peculiarità, evidenziato nel dibattito Carlo Colaiacovo, sollecitato sul tema di come rilanciare le città umbre sul piano economico e imprenditoriale. Spesso ci si confronta con le varie amministrazioni e non è sempre facile. A Perugia, ad esempio, ha ricordato il Cavaliere, né con l'occhi né con boccali sono state sfruttate risorse importanti messe a disposizione dalla fondazione, come ad esempio con il possibile progetto di Calatrava per il Santa Giuliana. Poi ne ha ossufruito la giunta Romizzi, che si è ritrovata sul piatto alcuni milioni da investire, senza quasi saperlo. Colaiacovo ha portato anche l'esempio del Turreno, sempre a Perugia, e come delle logge dei tiratoi a gubbio, bisogna saper guardare avanti per migliorare la qualità dei contenitori e degli spazi delle nostre città. Ci sono tante opposizioni da parte di comitati, spesso autoreferenziali, che hanno finito per bloccare idee e progetti costruttivi senza alcuna alternativa. Quello che bisogna sapere è cosa vuole davvero la città e cosa è meglio per una comunità. Inevitabile anche un accenno alla ricostruzione post-sisma. Il terremoto ha fatto più danni con l'immagine in Umbria che con le scosse. Ha detto Colaiacovo che, in merito alla fase attuale aggiunto, servono decisioni rapide, servono scelte chiare e nette in tempi immediati e servirebbe anche privilegiare le aziende locali in operazioni particolari come la ricostruzione post-sismica. Il passato ci dice quanto la ricostruzione spesso attragga soggetti poco affidabili da fuori regione. Serve coraggio anche in questo. Intanto è calato il sipario sull'ottava edizione della scuola estiva, la Nips Summer School, organizzata dal Laboratorio dell'Università di Perugia. Il professor Luca Gammaitoni, coordinatore della scuola e Deus Ex Machina della manifestazione Ugubina, si dice in una nota molto soddisfatto per la partecipazione di studenti arrivati da ogni parte d'Italia e del mondo. Molti di loro hanno deciso anche di prolungare la permanenza a Gubbio Scienza 2017 per seguire l'International Conference, avvia da oggi al Centro Servizi Santo Spirito, dove 60 tra speaker e auditori, studiosi, scienziati, responsabili di aziende provenienti anche da Nuova Zelanda, Argentina, Giappone, USA, India, oltre che da tutta Europa, si confrontano sul tema delle microenergie attraverso quattro tematiche microenergie transformation, dissipation, storage use. Il convegno proseguirà per tutta la settimana.